eccoci qua diciamo che possiamo essere molto contenti del lavoro che abbiamo fatto sia nella parte difensiva che nella parte offensiva dove a dire la verità abbiamo tirato con eccellenti percentuali però ritengo che queste percentuali sono figlie anche dalla selezione pulita che abbiamo insomma prodotto in campo e sono felice soprattutto per i ragazzi perché insomma hanno dimostrato di avere personalità carattere venire a riparare un errore grave che avevamo fatto in casa abbiamo fatto in modo eccellente investendo molto per tutta la partita affinché la nostra pressione il nostro andare a un ritmo abbastanza alto pure in attacco costringe se gli avversari insomma venirci dietro e dobbiamo riconoscere che con rotazioni con meno rotazioni di noi alla fine diciamo che questa cosa ha pagato sono molto contento non è finita assolutamente dopo domani c'è ancora un'altra partita e secondo me è la vera prova di maturità per questo gruppo perché se vuole dimostrare insomma di aver capito gli errori non fatti solo in questa serie ma per tutto l'anno lo deve fare anche attraverso la partita di domenica dove mi aspetto una reazione simile e una gara insomma guidata e magari con qualche difficoltà in più ma sempre attaccati con la testa e facendo le cose nostre e non cercando altre cose